Sempre protagonisti sulle strade d'Europa, i corridori aretini dopo il sesto posto di Bennati alla Gandeve-Velgem si registra la seconda posizione nella tappa conclusiva del criterium internazionale di Rinaldo Nocentini che conferma la sua eccellente condizione. Nella tappa finale della Due Giorni in Corsica, Nocentini ha tentato il colpaccio ma è stato battuto in volata da Fédrigaud, corridore francese che vanta una buona esperienza e uno spunto veloce. Il Noce ha cercato la sorpresa ma alla fine è stato preceduto proprio sulla linea del traguardo. Nella classifica finale Nocentini si è piazzato al sesto posto nella gara che ha visto il successo finale di Cadel Evans. Per Nocentini adesso appuntamento in Spagna al Giro dei Pesi Baschi, le salite lì non mancano e non è detto che possa arrivare l'occasione buona.